Un test d'allenamento sicuramente indicativo, una gara che però viene dopo un lavoro intenso, soprattutto dal punto di vista di ritmo e gambe, il peso si è sentito in campo, però quali sono le indicazioni che escono da questa gara? No, sicuramente è la prima partita di un certo livello che facciamo, i ragazzi hanno lavorato tantissimo in questo ritiro, ritiro comunque lungo, tre settimane, quindi sono tante per un ritiro, abbiamo lavorato molto bene, è normale che in questo momento la priorità è quella di completare l'organico, e quindi in questo momento siamo questi, avevamo anche quattro ragazzi aggregati dalla primavera negli ultimi giorni, nell'ultimo giorno, quindi sinceramente in questo momento stiamo pensando soprattutto al lavoro fisico, a dare dei concetti ben precisi, i ragazzi comunque nel primo tempo si sono mossi abbastanza bene, è normale che serve ancora tanto, c'è tanto da lavorare, quindi siamo consapevoli di questo. Si riparte il 16, l'ultimo step prima dell'inizio del campionato? Sì, ripartiamo il 16, sapendo che comunque la data dell'inizio del campionato si avvicina sempre di più, dobbiamo comunque ora concentrarci, come dicevo prima, sul lavoro che stiamo facendo, sul dare un'identità a questa squadra, sul creare soprattutto un bel gruppo, quello che poi ha fatto anche la differenza dell'anno scorso, e poi comunque per la partita col potenza ci faremo trovare pronti.